Una frase di Harry Ford a Mecara recita La qualità è fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando. Ma che cosa significa qualità? Cosa significa fare le cose bene? Oggi, nell'azienda che ho fondato più di 50 anni fa, ci sono i miei figli e i miei nipoti e ho insegnato loro che la qualità è essenzialmente un'attitudine mentale. Prima di un prodotto vengono le idee, prima delle idee vengono l'entusiasmo e la passione. Amo queste parole perché descrivono esattamente ciò che accade quando si entra in relazione con la qualità. Per fare un buon lavoro, il primo fondamentale e imprescindibile strumento è avere una buona carica di entusiasmo e metterci il cuore. Senza di essi si può anche rinunciare, mettere via gli strumenti e andare a casa. Ho insegnato a chi ha lavorato con me a fare tutto ciò che veniva fatto prestando il massimo della cura e precisione. A non fare nulla in modo superficiale, senza provarvi gusto, perché solo il piacere e l'entusiasmo nello svolgere il proprio lavoro possono portare a risultati sorprendenti, quasi inattesi, a migliorare se stessi e a creare valore ogni giorno. Penso che nell'approssimazione si possa perdere tutta una vita, gettarla, un mondo di possibilità in potenza che non si trasforma in atto. Oggi, dopo tanti anni, ho capito che il prodotto perfetto non esiste, che ogni cosa, ogni lavoro potrà sempre essere perfezionato. Ed è proprio questa continua ricerca, questo inarrivabile traguardo, l'essenza stessa della qualità che contraddistingue da sempre la nostra produzione. Grazie a tutti i nostri spettatori